Quando c'ha 12 anni, improvvisamente il padre ha incomincio una relazione con una delle migliore amiche di sua madre. Questa ragazzina si ritrova tra le bocche di tutto il paese. È nata una bambina, guarda che è tua sorella. Un papà della amica le dice, guarda che ho visto tuo padre in una macchina in campagna, imboscato con un'altra donna. Appassionati di gossip e tv, bentornati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di Denise Pipitone, la bambina scomparsa alla Mazzara del Vallo nel 2004. Stavolta non si tratta di nuovi indizi, nuove rivelazioni, ma della reazione stizzita di Piera Maggio, che si è infuriata per le dichiarazioni di Carmelo Abate a quarto grado. La mamma di Denise ha scritto al conduttore Gianluigi Nuzzi, dopo aver sentito Carmelo Abate, da sempre estreno difensore di Anna Corona e Jessica Pulizzi, fare delle pesanti affermazioni riguardanti la sua relazione estraconugale con Piero Pulizzi. Signor Nuzzi, ma lei pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abate? È lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui è stata rapita una bambina cercando di giustificare la violenza? Ma cosa ne sapete di me? Ma come vi permettete di giudicarmi e farmi giudicare pubblicamente senza sapere? Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera, senza sentimenti. Vergogna no? Cordiali saluti, Piera Maggio E voi? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Per il momento è tutto, al prossimo video. Ciao!